Tu sei Anthusa? Anthusa? Io? Per te posso essere chi vuoi, tesoro. Costo meno di un'etera, ma non sono da meno su un giaciglio di paglia. Allora conosci questo nome? Anthusa? Lavora da sempre, ma non l'ho mai incontrata. So che le etere si considerano tutte allo stesso livello, ma Anthusa è speciale. Quando lei parla, le altri ascoltano. Non ho mai incontrato un'etera. Non credere a tutto quello che senti. Fanno quello che noi facciamo a Corinto, ma i loro servizi vanno oltre la carne. Sono tanto avvenenti quanto eloquenti. Sembra un buon mercato in cui avventurarsi. Tu non vuoi essere un'etera? Non sono più una ragazzina, non credimi, Stios. Quando imparerò a essere una di loro, servirò ai miei clienti sul letto di morte. Se le etere non sono qui, allora dove sono? Quelle come loro sono troppo superiori per essere qui tra la feccia. Se è loro che cerchi, le troverai sulla collina all'Acrocorinto, vicino al Tempio, a soddisfare i devoti di Afrodite. Questa è una ragazzina all'Acrocorinto. Questa è una ragazzina all'Acrocorinto.